Buonasera e benvenuti al nostro telegiornale. Il tema della sicurezza sulle strade torna in questi giorni in cui la cronaca si impone con incidenti tragici. Secondo Gianandrea Pro, fondatore di un'associazione dedicata alla guida sicura, la priorità è il rispetto delle regole da parte di chi è al volante. Si cercano colpe nella segnaletica insufficiente e in svincoli complessi, ma il problema sta nel mancato rispetto delle regole da parte di chi è al volante. Lo sostiene Gianandrea Pro, un passato da rallista e fondatore dell'associazione Valtellina Security Driving Project School, che interviene sul tema della sicurezza stradale anche in seguito al tragico incidente lungo la statale 36 a Derbio che ha causato la morte di madre e figlia coinvolte in un frontale con un'altra auto. Nella maggior parte dei casi, afferma Pro, fattori come la fretta, le distrazioni causate in primis dall'uso del telefono, l'eccessiva velocità portano gli automobilisti a non rispettare regole fondamentali del codice della strada, sottovalutando il pericolo che ne consegue. Abbiamo assistito in questi anni a incidenti stradali in seguito ai quali si è intervenuti per migliorare svincoli, segnaletiche, incroci, ritenendo le strade stesse elementi di pericolo. Eppure, in quegli stessi punti, si sono ripetuti gli incidenti anche dopo la messa in sicurezza. Secondo Gianandrea Pro, è necessario cambiare punto di vista e rivolgere l'attenzione a chi è alla guida. Sensibilizzare al pericolo rappresentato dalle infrazioni al codice della strada è fondamentale, prosegue Pro, che avanza anche una proposta. Per gli automobilisti che hanno alle spalle incidenti o gravi infrazioni al codice, sarebbe utile prevedere con il rinnovo della patente anche una prova di guida su strada e verificare nel concreto la sua attenzione al codice della strada. Sondrio è stata dal dopoguerra ad oggi città di servizi e in futuro cosa la attende? Una domanda che è stata filo conduttore dell'evento andato in scena nella sala conferenze di Confartigianato per iniziativa dell'associazione Sondrio Domani. Vediamo com'è andata nel servizio. L'innovazione, il lavoro e la formazione, i giovani e il futuro, la promozione del territorio, questi gli argomenti sui quali si sono confrontati i tanti partecipanti all'incontro promosso dall'associazione Sondrio Domani nella sala conferenze di Confartigianato. Lo sguardo proiettato i prossimi vent'anni. Tra le idee è riportare in valle i cervelli in fuga, attrarre professionisti nel campo dell'innovazione. Fabrizio Capobianco, tornato in Valtellina dopo 23 anni ricchi di soddisfazioni nella Silicon Valley, ha messo in evidenza un fenomeno, un lavoratore tech porta in dote 5 lavoratori non tech. Una giornata intensa con tanti spunti, tavoli tematici. Quali sono state le conclusioni di questa giornata di confronto? Ci sono veramente tantissimi spunti che sono emersi in questa giornata, veramente ricca di energia, ricca di voglia di fare, ricca di tante energie, di tante persone di età diverse, ma tantissimi giovani. Quello che è emerso è la volontà di fare rete, di provare anche a invertire un po' dei paradigmi un po' tipici del nostro territorio, e quindi la volontà di avere più progettualità, di avere dei momenti di riflessione, di confronto, e di provare a immaginare degli indirizzi comuni e una riflessione comune che parta da un dialogo e da una discussione. Si è parlato in questi tavoli anche di innovazione, di accoglienza turistica, sempre più diffusa, misura ad uomo. Sì esatto, qui siamo partiti da due concetti fondamentali che in realtà sono sottointesi tutta questa giornata. Da un lato i nostri punti di forza, da cercare di promuovere sempre di più, quindi il fatto che qui si vive bene, il fatto che siamo in grado di avere delle potenzialità turistiche, di promuovere i nostri territori, e queste cose vanno spinte sempre di più per fare attrattività, per creare attrattività per il nostro territorio. Dall'altro canto, guardando quello che è il mondo di oggi e le possibilità del mondo di oggi, creare grazie a questi punti di forza che abbiamo, alla qualità della vita, la possibilità di creare qui un posto in cui si possa creare un ecosistema di innovatori, di innovazione, convincere persone che scappano dalle grandi città a venire a vivere qui, proprio perché qui abbiamo dei punti di forza che si possono in questa fase valorizzare, guardando da qui ai prossimi anni. Europe for Peace, la coalizione formata dalle principali reti per la pace europee da centinaia di associazioni italiane, promuove per sabato 22 ottobre una giornata nazionale di mobilitazione diffusa in tutto il paese. Sotto il grido, tacciano le armi, negoziato subito. Si scenderà in piazza per chiedere azioni concrete, che virino verso una conferenza internazionale di pace per l'Ucraina. Nella nostra provincia, due le città che sabato saranno interessate da iniziative pacifiste. Sondrio propone l'esposizione di tre grandi bandiere della pace in tre piazze della città. Alle 11 in piazzale Bertacchi, alle 11 e un quarto la manifestazione si sposterà in piazza Campello, per poi concludersi alle 11 e 30 in piazza Garibaldi. Altro comune a mobilitarsi per l'Ucraina sarà Chiavenna, che ha organizzato un dibattito in piazza Bertacchi, dalle 10 alle 13 con musica e interventi dal palco. Quello in arrivo sarà il fine settimana del trofeo Vanoni per la città di Morvegno. Più di 700 gli atleti al via nelle diverse categorie. E grande attesa al maschile per la sfida tra Francia e Valchiese. In rosa se la giocano Sara McCormack e le nostre Elisa Sortini e Alice Gaggi. Si scaldano muscoli e animi a Morvegno per il trofeo Vanoni in scena domenica. Chiuse da poco le iscrizioni, i numeri sono quelli attesi dagli organizzatori del CSI. 129 staffette maschile, 89 donne e 316 ragazzi alla gara Under-18, per un totale di 792 atleti che faranno di Morvegno la capitale della corsa in montagna. I francesi hanno già lanciato il guanto di sfida ai neocampioni italiani di corsa in montagna a staffetta dell'SA Valchiese. L'anno scorso a separarle ci furono solo 12 secondi. Quest'anno sarà sicuramente bagarre. Anche la gara donne saprà regalare grandi emozioni. L'irlandese Sara McCormack si presenta come testa di serie, ma dovrà vedersela con le baltellinesi Alice Gaggi ed Elisa Sortini, entrambe proiettate ai mondiali in Thailandia. Nel Mini Vanoni, gara a cui il GSCSI Morvegno tiene in modo particolare, Sara Sfida tra i padroni di casa e la polisportiva al Bosaggia, che dopo la vittoria al trofeo 373 ha dichiarato senza mezzi termini di voler puntare anche alla vittoria nel Mini Vanoni. Il programma partiamo il sabato con la sfilata e la messa ai caduti in Via Vanoni e nella collegiata di San Giovanni. Poi domenica mattina partiamo con le gare del Mini Vanoni alle 9, alle 11 le donne individuali e al pomeriggio alle 2 gli uomini staffetta tra elementi. Una grande festa anche quest'anno? Noi speriamo di sì, il tempo sembra buono, noi ce la stiamo mettendo tutta, stiamo cercando di mettere in atto tutte le nostre forze e pensiamo proprio che se va come gli altri anni tutti quelli che arrivano a Morvegno saranno contenti. Rush finale per le Bormia di 2022. Si avvicina infatti l'ultimo dei quattro weekend di giochi che da oltre 35 anni animano l'Alta Valtellina ad inizio autunno. 15 le squadre partecipanti. Ecco le classifiche, le immagini e i commenti. Terzo e penultimo weekend di Bormia di quello che si è appena concluso nel Bormiese e dove la lotta per la vittoria sta prendendo una certa forma e che vede momentaneamente la squadra dei Marniaca con oltre 1100 punti di vantaggio sui vincitori uscenti delle Bormie di 2019, Ili Vinasca con Ierpica ad occupare la terza posizione. Stiamo parlando ovviamente della classifica generale provvisoria delle Bormiedi. Quest'oggi abbiamo incontrato due rappresentanti delle tre squadre Livinasche iscritte. Si tratta di Tommaso Longa per i Livinasca e Lucrezia Galli per il team dei Mountain Back. Sì, bene. Sappiamo che Roller era il nostro cavallo di battaglia. Infatti abbiamo giocato anche il Jolly per questo venerdì sera. e una vittoria che appunto era pronosticata e siamo riusciti a conquistarla. Non è stato facile perché comunque Ierpica hanno disputato una degna gara e infatti sono rimasti dietro di soltanto poco meno di un secondo. però ce l'abbiamo fatta. Poi il weekend ha proseguito appunto con un'altra vittoria sabato nella Campestre. Mentre domenica invece c'è stato appunto un piccolo imprevisto. In queste discipline come ad esempio oggi in Cana Storica e il Quizzone sono delle discipline dove può capitare di tutto. Stavolta siamo stati noi sfortunati. Garra molto bella, molto spettacolare nella quale si sono viste anche un po' le vecchie tradizioni del nostro territorio. Tradizioni che sono state rispettate molto bene dalla squadra del Mountain Back. Eravate vestiti con i vestiti tipici dei contadini. Avreste magari vinto il premio. Quale miglior costume della giornata? Come è andata Lucrezia Galli e che esperienza è per voi questa vostra prima bormia e voi del team del Mountain Back? No, la gara di domenica è andata nella norma. Siamo una squadra mista quindi in questa gara abbiamo partecipato praticamente solo donne tranne un maschio. Sì ci siamo divertite, appunto eravamo vestiti con i vestiti tipici di Livigno e magari quello potevamo vincerlo ma purtroppo la classifica per quello non c'è. Però come sempre ci divertiamo, è la nostra prima esperienza. Qualcuno è nuovo come me o altri hanno già partecipato quindi ci danno delle dritte. Però ci divertiamo sia in gara che anche dopo la gara. Prima di chiudere vorrei tornare di nuovo sulla weekend scorso, quello che si è svolto Livigno, sulla vostra grande dedica ad Andreas Cusini. C'erano anche i genitori di Andreas durante le premiazioni ed è sempre bello ricordare questo grande amico dell'Ivinasca ma anche delle Bormiadi. Assolutamente sì, era una cosa che comunque in squadra avevamo parlato, ci tenevamo a farla. Anche i genitori comunque sono sempre stati dell'idea appunto di ricordare Andreas durante ogni anno le Bormiadi. Anche l'organizzazione delle Bormiadi ci teneva a fare appunto a ricordarlo e a fare un evento qui a Livigno in suo onore. Per questa sera è tutto, io vi do appuntamento a domani e a tutti voi una buona serata. Grazie a tutti.